simuliamo adesso che io sia un cliente sono appena arrivato al vostro stabilimento balneare ho fornito il mio numero di cellulare quindi in automatico mi arriva un messaggio su whatsapp con un link basta che io ci clicchi in automatico login e password sono già inserite quindi devo solo accedere vediamo che io nella mia area qualche informazione possiamo decidere di far vedere o non far vedere queste informazioni il totale da pagare i miei accessori io so che oggi sto in prima fila vediamo in basso a sinistra vicino alla passerella ho anche la posizione del del mio ombrellone in questo caso un giornaliero dal 19 al 19 e so che ho una sdraio e due lettini ovviamente questo si aggiorna in base anche se spostiamo la produzione aggiungiamo togliamo accessori ok andiamo a farci un'ordinazione il software si collega al lido al menu del lido ordina ora vediamo che già c'è un euro in questo caso perché abbiamo scelto di far adebitare il servizio spiaggia aggiungere quindi un euro altrimenti non c'era niente allora vogliamo un cocktail scegliamo un mojito quanti ne vuoi diciamo che ne voglia due con l'aggiunta di jack daniels vediamo che il jack daniels c'è un'aggiunta di un euro il ghiaccio chiaramente no ok possiamo continuare per confermare vediamo in basso abbiamo reso conto ordina ora è arrivato a 17 euro mojito i due mojiti jack daniels aggiungiamo questo era per quanto ricordava il bar pizzeria una diavola senza glutine e magari una un antipasto alici fritte ne vogliamo anzi due anche questi senza glutine con limone diciamo bocconcino anche se abbiamo nel totale in basso vediamo che ci sono i due mojito se abbiamo sbagliato diciamo che alici fritte ne voliamo uno clicchiamo sulla x eliminiamo vediamo il totale aggiornato con i vari prezzi ok in questo caso voglio pagare con carta seleziono paga con carta e voglio che mi venga portato alle ore 13 eccoci qua confermiamo e andiamo ad inserire i dati della carta per poter pagare allora in questo caso vediamo che nome e cognome email numero di telefono sono già inserite perché era un cliente eravamo chiaramente già registrati perché avendo avendo una prenotazione numero di carta mettiamo un numero vediamo qui come potete vedere se io clicco su visa perché ricorda il browser ricorda la carta che ho pagato in questo caso è un test quindi la modalità fittizia quindi mettiamo una carta non reale giusto per fare la prova c'è una scadenza qualsiasi il codice è un cap 80 40 78 ok mi dice attenzione con prima di confermare verifica che tutti i campi siano compilati paga ora il pagamento in questo caso se c'era la doppia autenticazione mi arriva anche un sms di conferma con cui potevo confermare mi dice gentile falcione gialluca il suo ordine è da buon fine è se noi andiamo a rivedere c'è un resoconto servizio l'ombrellone pagato con carta portare alle ore 13 quindi alle ore 13 mi verrà portata la mia ordinazione